Sono fuori dal carcere e svolgeranno i lavori socialmente utili Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due trentenni condannati per la morte di Martina Rossi, la studentessa Ligure, precipitata dal sesto piano di un hotel di Palma di Mallorca all'alba del 3 agosto 2011. I due aretini stavano scontando la pena in regime di semilibertà con la possibilità di lavorare durante il giorno facendo ritorno in carcere la notte. Adesso l'affidamento è in prova ai servizi sociali, come stabilito dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze in due diverse udienze, di cui si apprende solamente adesso, a luglio 2023 per Vanneschi, a metà febbraio scorso per Albertoni. Entrambi svolgono l'affidamento presso un'associazione di volontariato del territorio e durante la notte hanno l'obbligo di non uscire. Termineranno di scontare la pena ad inizio 2025. Vanneschi e Albertoni erano stati condannati in via definitiva nel 2021 a tre anni per tentata violenza sessuale di gruppo, la metà rispetto a quelli decisi in primo grado perché nel frattempo l'ipotesi di morte come conseguenza di altro reato è caduta in prescrizione. Albertoni e Vanneschi hanno sempre negato ogni accusa. Fortemente provati i genitori della giovane Bruno Rossi e Franca Murialdo, dopo la notizia dell'affidamento in prova ai servizi sociali, da sempre sono impegnati in una battaglia per ottenere giustizia per la tragica morte della figlia. In sede civile, ad aprile si tornerà in aula, i genitori hanno chiesto un risarcimento danni di oltre un milione da destinare all'associazione Martina Rossi, nata con l'obiettivo di aiutare le donne vittime di violenza e le persone più fragili.